A sta la vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Rieccoci qua ragazzi con il nostro carissimo e potentissimo Gohan Super Saiyan Full Power e oggi andremo a fare un nuovo allenamento per andare a sbloccare una nuova fighissima abilità per Gohan. Ma prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare, se non l'avete visto, lo scorso episodio in cui ragazzi semplicemente siamo andati a potenziare alcune conoscenze e abilità nello schema abilità attacchi speciali di Gohan. Abbiamo fatto un nuovo allenamento e abbiamo sbloccato la mossa chiamata Onda dell'Aura a ripetizione che abbiamo poi testato in una battaglia contro dei nemici casuali. Quindi ragazzi, se per caso non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati! Detto questo, adesso ragazzi possiamo procedere. Quindi accediamo al mitico campo d'allenamento e qui ragazzi oggi andremo a fare un nuovo allenamento per sbloccare la mitica Kamehameha che vedete qui in alto al primo rigo. Devo dire che la Kamehameha secondo me ragazzi è molto svalutata. Perché dico questo? Perché ragazzi effettivamente se ci pensate un attimo è proprio così. Infatti quasi tutti i personaggi di Dragon Ball possono utilizzare la Kamehameha anche se non sempre la utilizzano. Ad esempio Goku è il primo utilizzatore della Kamehameha, la utilizza quasi in ogni scontro. Abbiamo poi il maestro Muten che è stato proprio lui ad inventarla e a trasmetterla poi con gli insegnamenti a Goku e a Krillin, quindi Krillin la sa usare tranquillamente. Poi ragazzi addirittura Yamco e Tensing la sanno utilizzare ma magari la utilizzano raramente. Sappiamo anche che Goten quando nascerà la saprà utilizzare fin da piccolo. Anche alcuni nemici tipo Cell e anche Majin Buu. Quindi Cell abbiamo visto che avendo le cellule Saiyan e avendo le cellule soprattutto di Goku sapeva utilizzare la Kamehameha e anche tante altre mosse. Mentre per quanto riguarda Majin Buu la saprà utilizzare dopo aver visto Goku una sola volta mentre la lancia. Quindi ragazzi diciamo che è molto svalutata proprio perché la usano tutti. Cioè non è più una cosa tanto speciale se la usano tutti. Ovviamente non me lo son dimenticato c'è anche il nostro caro Gohan che sa usare la Kamehameha. Infatti ragazzi l'ha usata recentemente contro Cell una bella Kamehameha padre figlio quindi potentissima che ha spazzato via Cell. E adesso invece dobbiamo fargli imparare con questo nuovo allenamento una Kamehameha normale. Quindi sappiamo benissimo dall'anime che Gohan sa usare tranquillamente la Kamehameha oltre che il Masenko. Un'altra mossa davvero straordinaria. E sappiamo che utilizzerà la Kamehameha da qui in poi quindi soprattutto nella saga di Majin Buu. E quindi ragazzi non ci resta adesso che fare questo benedetto allenamento e sbloccare questa nuova mossa che su Gohan non abbiamo ancora sbloccato e ancora visto. Qui dice livello consigliato 45. Noi ragazzi siamo al livello 55 con il nostro caro Gohan quindi non ci sono preoccupazioni ce la facciamo tranquillamente. Aura richiesta 52 rilascia l'aura caricata sotto forma di raggio devastante. Fin qui ci siamo lo sappiamo benissimo. Consuma molta aura ma infligge danni enormi. E voglio ben vedere una volta sbloccata poi voglio andare a utilizzarla e a fare appunto questi danni enormi. Come ottenere? Qui ragazzi i requisiti sono solamente 8 medaglie D che abbiamo ovviamente. In carico sconfiggi tutti i nemici. Abbiamo il nostro caro Gohan Super Saiyan Full Power di livello 55. Che si può trasformare in Super Saiyan 2 e fare il culo a tutti contro 3 avversari in questo allenamento. Abbiamo Gohan di livello 45 quello bambino di prima della saga degli androidi e 2 junior di livello 45 quindi ragazzi c'è un nemico in più rispetto all'altra volta. A questo punto non ci resta che fare conferma. Vuoi provare ad apprendere Kamehameha? Certo ragazzi subito inizia l'allenamento contro questi 3 fantasmi blu. Un Gohan e 2 junior. Occhi aperti. Facciamo Super Saiyan 2. Mamma mia ragazzi stiamo attenti a sti cavolo di junior. Ecco abbiamo schivato. Super Masenko. Beccati questo maledetto junior. Non ci fare mai più quegli attacchi. Odio ragazzi l'esplosione di junior perché è molto molto potente. Perfetto leviamoci. Super Masenko. Dai ragazzi distrutto già uno. Ci abbiamo messo davvero 2 secondi. Sono davvero contento e soddisfatto. Perfetto. Ok perfetto ragazzi. Facciamo onda dell'aura a ripetizione. Cerchiamo di usare questa mossa qui che è molto molto bella. Ok vai 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 vai. Vai Gohan. Col Super Saiyan 2 ragazzi. Ricordiamocelo. Vi stiamo davvero devastando. Ok. Dai ragazzi. Quella cavolo dell'esplosione però junior la devi assolutamente evitare. Vai 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 vai. Forza. Madonna ragazzi. Schivata. Perfetto. Non so cosa sia successo. Super Masenko. Mamma mia ragazzi. Ci respinge junior. Non è poi così debole. Ok. Perfetto. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Leviamoci. Ok. Facciamo. Botta meteorica. Mamma mia ragazzi. Distrutti in un niente. Ok. Attento 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 attento. Facciamo ragazzi. Onda dell'aura ripetizione. Usiamola contro l'altro Gohan. Vai. Forza. Dai ragazzi. Voglio distruggerlo così. Sempre se riusciamo. Vediamo. No. Non riusciamo. Quindi ci vuole ancora più potenza. Facciamo la scarica ragazzi. Col Super Saiyan 2. Mamma mia ragazzi. Gohan focoso. Mamma mia. Adesso facciamo Super Masenko. Arraffica ragazzi. Lo distruggiamo. Fine. Perfetto. La Kamehameha adesso è nostra. Vediamo. Oh. Hai appreso Kamehameha. Proprio quello che volevo. Quindi ragazzi. È stato anche un po'. Entusiasmante questo allenamento. Quindi mi sono anche divertito. Adesso andiamo ad impostarla all'interno della griglia abilità di Gohan. Qui voglio fare un po' di cambiamenti. Allora innanzitutto togliamo da qui l'onda del mondo. L'aura a ripetizione. Togliamo il colpo schiacciante. Qui ragazzi. Ci metto appunto. Onda dell'aura a ripetizione. E qui ragazzi. Invece. Nello slot vuoto. Ci mettiamo la nostra mitica. Kamehameha. Sotto il Super Masenko. Voglio quest'ordine qui per le mosse. Quindi ragazzi. Poi mi fate sapere. Come vi sembra. Andiamo allo. Schemabilità. Attacchi speciali. E ragazzi. Vediamo se ci sono da fare. Dei potenziamenti. Qui abbiamo la Kamehameha di livello 1. E qui abbiamo il livello 2. Quindi facciamo conferma. Vuoi apprendere Kamehameha al livello 2? Certo ragazzi. La potenziamo. Ok. Mentre per il livello 3. Cosa ci dice? Raggiungi il livello 60. E non ci siamo ancora. Quindi la potenzieremo in futuro. Bene ragazzi. Abbiamo qui dei Cybermen. Subito ci hanno notato. E facciamo la battaglia contro di loro. Utilizzando la Kamehameha. Quindi ragazzi. Subito facciamo Super Saiyan 2. Perché voglio essere alla massima potenza. Assolutamente. Dai dai. Facciamo. Kamehameha. Vai Gohan. Lanciala. Sì ragazzi. Distrutto. Ovviamente questa qui è una Kamehameha ragazzi. Normale. Di livello 2. Mentre ad esempio il Super Maseko che abbiamo al momento è molto molto più potente. Stiamo parlando ragazzi del Super Maseko a livello 3 al massimo. Ok. Perfetto. Hai finito Cybermen. Hai finito. Ok. Leviamoci. Ragazzi. Stiamo attenti. Vediamo un po' di beccarli. Kamehameha. Vai. Distrutto. Sì ragazzi. Mi piace. Mi piace tantissimo. Ovviamente la scia. L'onda insomma è abbastanza piccola. È come quella della Kamehameha di Goku prima che diventasse Super Kamehameha. No. Prima che la potenziassimo. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. E si spostano ragazzi. Ma è ovvio. Non voglio non essere mica ammazzati. Vai Gohan. Distrutto. Mamma mia. Bellissimo ragazzi. Adesso l'ultimo. Vai. Sì ragazzi. Distrutto. Bellissimo. Bellissimo. Oh. Esperienza ottenuta a 20.000 grado S. E quindi ragazzi. Io direi che l'abbiamo provata abbastanza bene. Ovviamente una Kamehameha normale che conosciamo benissimo. L'abbiamo utilizzata per molte molte volte con Goku. Dall'inizio del gioco fino a un po' di tempo fa. Poi siamo passati alla Super Kamehameha. Che credo poi ci sarà anche su Gohan. Immagino di sì. Se ce l'ha Goku sicuramente ce l'avrà anche Gohan. Quindi ragazzi. Oggi siamo andati a fare questo nuovo allenamento con il nostro caro Gohan. E abbiamo finalmente sbloccato la Kamehameha anche per lui. Perché con Goku ormai abbiamo tanti tipi di Kamehameha. Abbiamo quella normale. La Super Kamehameha. E la Kamehameha guidata. Ma con Gohan non avevamo neanche una Kamehameha. E finalmente ragazzi l'abbiamo sbloccata. L'abbiamo anche testata in una battaglia. E devo dire ragazzi che con il Super Saiyan 2 si fa una bellissima figura. Nel senso che è davvero potentissima. E nonostante non l'abbiamo potenziata fino al livello 3 ma lo faremo poi. Mi è sembrata abbastanza potente. Un po' meno potente del Super Masenko. Dato che il Super Masenko è una mossa più potente del Masenko. E di conseguenza è più potente della Kamehameha normale. Poi ragazzi quando arriveremo ad avere a sbloccare insomma la Super Kamehameha. Allora lì vedremo la differenza tra il Super Masenko e la Super Kamehameha. Comunque ragazzi ovviamente sono contentissimo di avere la Kamehameha. Non solo con Goku ma adesso anche con Gohan. Mi sento un po' più completo. Sono contento di averla tra le mie mosse nella lista appunto delle mosse che utilizzo. Mi raccomando fatemi sapere la vostra su tutto questo episodio. Fatemi sapere che cosa ne pensate dell'allenamento contro Gohan e i due junior. Fatemi sapere se vi piace la mossa Kamehameha su Gohan. Se vi sembra potente e se la utilizzate anche voi. Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto. E che vi abbia anche un po' divertito. Se volete ragazzi lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. E ricordatevi sempre che io tornerò.